Momo termina una prima parte di campionato assolutissimamente positiva per te. Partiamo dal tanto interesse che hai suscitato in società di categorie superiori, però hai deciso di restare a difendere la porta della Nocerina e fino adesso il tuo bilancio personale è assolutamente positivo. Sicuramente sono contento di come sono andati questi sei mesi, almeno personalmente parlando, però ciò che comunque mi interessa è che la mia prestazione viene dopo rispetto a quella di squadra e se si vince sono ben più che contento se faccio bene io. Se faccio bene personalmente magari i risultati sono anche negativi, la mia prestazione passa in secondo piano e non mi interessa onestamente. Bilancio di squadra, c'è un capolista che sta collezionando numeri straripanti, probabilmente non se l'aspettavano nemmeno lì a Troina. Dietro una Nocerina che andando a vincere proprio lì all'ultima di andata ha riaperto o comunque ha detto ci siamo ancora noi. Sicuramente andare a vincere in casa del Troina è stata una bella impresa perché comunque la nostra situazione che stiamo passando non è assolutamente facile, però comunque grazie ai nostri tifosi, all'unione che si è creata tra noi e lo staff ha fatto sì che comunque si vincesse questa partita delicata. L'importante adesso è mettere da parte tutto quello che può distrarre dalla prestazione che si offre in campo. C'è un girone di ritorno da combattere e inizia probabilmente con l'avversario più difficile. Una Vibonese che è risalita, un po' alla volta si è arrampicata di nuovo lassù, ha modificato un bel po' la rosa nel mercato invernale e adesso si candida come principale antagonista della Nocerina e del Troina per il titolo finale. Sicuramente la Vibonese è sempre stato un avversario ostico, lo sapevamo già da settembre, ottobre, perché era quando l'avevamo affrontato in casa, abbiamo fatto una gran bella prestazione che avevamo limitato ogni loro ripartenza o modo di giocare, di conseguenza andiamo in casa loro e cercheremo assolutamente di portare la vittoria a casa.